e il bentornato a tutte. Vi ringrazio per essere qui con noi di nuovo a questo incontro del ciclo di epidemiologia sociale. Mi presento, sono Marta Ottone e sono una statistica che lavora presso l'azienda USL-IRCS di Reggio Emilia e oggi, questa sera, rappresento il gruppo di AIE Giovani e modererò questo incontro, questo quarto incontro del ciclo di incontri di epidemiologia sociale. Questo ciclo di incontri, come abbiamo già detto, è nato dalla collaborazione dei due gruppi AIE Giovani e Citi. Parlando delle puntate precedenti, che cosa è stato già visto nel primo incontro? È stato presente il professor Costa, che ha fatto una panoramica su che cos'è l'epidemiologia sociale. La seconda puntata era presente Nicola Caranci, che ha fatto una panoramica di quali strumenti quantitativi si possono utilizzare in epidemiologia sociale e la settimana scorsa erano presenti il gruppo di Luigi Palestrini, Maria Teresa Tessinari e Giulia Silvestrini, che hanno introdotto gli strumenti Health Equity Audit. Quindi, prima di iniziare, vi riporto le solite note tecniche. Il modulo delle presenze dovrebbe essere già stato inviato in chat, dove vi potete segnare. Per avere poi il modulo di partecipazione e l'attestato dovete frequentare cinque incontri su sette. E lasciamo, come al solito, l'ultima parte della lezione per le domande, che potete fare, vi invito a farle, utilizzando la sezione domande e risposte di Zoom. A posto penso di aver detto tutto e passo a introdurvi la relatrice di oggi, che è Anna Ciannameo, antropologa, che lavora anche lei nell'area innovazione sociale dell'Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna. E la lezione di oggi parlerà su dei metodi qualitativi che si possono applicare in epidemiologia sociale. Quindi non perdo tempo e lascio la parola ad Anna. Bene, grazie Marta. Buon pomeriggio a tutti voi, a tutti voi. Io intanto condivido il mio schermo. Ditemi se lo vedete. Sì? Sì. Dunque, allora, il modulo che mi è stato affidato appunto è un modulo su quelli che sono gli strumenti qualitativi di ricerca che possono appunto essere utili nell'ambito dell'epidemiologia sociale. Quello che farò chiaramente in un tempo così breve è quello di dare alcuni spunti. Quindi, lungi da me pensare di poter semplificare troppo, anche banalizzare degli strumenti che invece richiederebbero chiaramente degli approfondimenti. Tuttavia, penso che, insomma, possa essere utile intanto avere delle informazioni generali a cui comunque ho, come dire, aggiunto anche dei riferimenti bibliografici nell'idea che poi si possano andare ad approfondire. Mi sono chiaramente, mi concentrerò di più sulla parte, sugli strumenti di ricerca, quindi di raccolta dati, un po' meno sulla parte analitica, però diciamo che possiamo parlarne anche durante la fase di discussione se ci sono degli interessi che, come dire, si focalizzano su delle parti del processo di ricerca su cui magari mi sono focalizzata meno. E allora, devo vedere qui. Non vedo dove... Ecco qua. Ok. Allora, innanzitutto, che cosa intendiamo per ricerca qualitativa? Probabilmente è già emerso nelle lezioni, negli interventi precedenti, però la ricerca qualitativa è chiaramente un processo creativo di indagine e di scoperta che è sviluppato da uno o più ricercatori e ricercatrici che, come tutti i tipi di ricerca, è finalizzato a produrre delle nuove conoscenze partendo da delle ipotesi iniziali o comunque da conoscenze esistenti. La cosa importante della ricerca qualitativa è che ha finalità sicuramente esplorative e descrittive, ma la finalità più grande è quella interpretativa. Come vi mostrerò tra breve, la ricerca qualitativa si dà proprio come scopo quella di identificare dei fenomeni sociali e andarli ad approfondire. Appunto è particolarmente efficace quando si vuole indagare il perché di un fenomeno sociale e lo si vuole analizzare in profondità piuttosto che in estensione o in quantità, tant'è che appunto nell'ambito dell'epidemiologia sociale è molto facile che strumenti di ricerca qualitativa vengano integrati a strumenti di ricerca quantitativa proprio perché alle volte abbiamo la necessità di inquadrare dei fenomeni da un punto di vista quantitativo, però poi anche per esempio almeno in parte per capire le ragioni che stanno dietro a determinati fenomeni andiamo a cercare dei perché. Che so io, se riusciamo ad inquadrare la quantità di popolazione straniera che accede ad un determinato servizio sanitario da un punto di vista quantitativo, la ricerca qualitativa invece può aiutarci a capire quali sono le motivazioni per cui una data fetta di popolazione non riesce ad accedere, andando quindi a posizionare lo sguardo non tanto sul servizio quanto su tutta un'altra serie di luoghi di vita dove si situano magari le barriere di accesso appunto a quello specifico servizio. e quindi gli strumenti qualitativi sono funzionali a un approccio che contempla fondamentalmente la prospettiva e i vissuti soggettivi delle persone, le esperienze di malattia, le esperienze di salute, le esperienze nei servizi sanitari. Io cercherò di fare chiaramente degli esempi tratti dal mio campo di ricerca personale. Anch'io ho lavorato nell'azienda USL di Reggio Emilia per cinque anni, ero all'epoca nel governo clinico e mi occupavo proprio dei progetti di ricerca nell'area ricerca innovazione, ma anche adesso mi sono spostata in regione, in agenzia sociale sanitaria, anche lì, come dire, si tratta di processi di ricerca che si finalizzati di più alla parte di programmazione delle politiche sanitarie, ma che comunque hanno a che fare con le esperienze di salute, malattia e assistenza sia di pazienti, ma anche per esempio degli operatori o di altri interlocutori che è bene per esempio ascoltare quando si vogliono immaginare delle politiche sanitarie. Dal punto di vista metodologico, quindi, gli strumenti qualitativi prevedono una serie di conoscenze che sono legate alla capacità di far affiorare i significati soggettivi, i significati personali che sono unici, sono in quanto soggettivi, analizzare la complessità dei fattori di contesto perché le esperienze personali sono tali perché vengono influenzate da delle dimensioni macro, da delle dimensioni più strutturali come quelle per esempio socio-economiche e quindi dal punto di vista metodologico la ricerca qualitativa richiede di approssimarsi alla vita delle persone, avvicinarsi il più possibile alla vita delle persone e fare sempre ricorso a delle forme di osservazione ravvicinata, tant'è che gli strumenti qualitativi che vi mostrerò poi nel corso di questo pomeriggio in realtà sono delle forme di osservazione ravvicinata che differiscono per la quantità di persone che vengono coinvolte. È chiaro che quantomeno nel mio caso e dal punto di vista dell'epidemiologia sociale la ricerca qualitativa e gli strumenti qualitativi evocano una condizione, come dire, una salute intesa come paradigma complesso, quindi una salute che, ma immagino che questo sia già emerso ampiamente, come dire, nelle puntate precedenti, una salute intesa come una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico delle persone integrato dinamicamente nel suo ambiente naturale e sociale che è un po' la base dell'epidemiologia sociale e anche proprio, diciamo, dello sguardo da parte della ricerca sui fenomeni di salute e malattia. Ecco, vi dicevo che gli strumenti qualitativi servono a guardare in profondità. Questo perché? Perché appunto ad uno sguardo superficiale c'è una parte che si vede, che le persone rendono manifesto e che sono per esempio alcuni comportamenti, il mondo in cui facciamo le cose, quindi le abitudini per esempio anche in materia di salute, i percorsi sanitari che comunemente battiamo come cittadini oppure le pratiche che comunemente adottiamo come operatori, però la ricerca qualitativa in realtà sa che alla base dei comportamenti ci sono anche dei fattori che non vediamo ad uno sguardo superficiale e che hanno bisogno di approfondimento anche perché spesso i valori delle persone agiscono sui loro comportamenti in maniera inconsapevole e questo vale sia per il mondo dei pazienti e dei cittadini, sia per il mondo degli operatori. Diciamo sempre quando si parla di soggetti e di ricerca tra i soggetti, con i soggetti, uno dei presupposti è proprio che la necessità di andare in profondità nasce dal fatto che c'è tutto un sistema valoriale, un sistema socioculturale che agisce sui nostri comportamenti non sempre in maniera consapevole ma che comunque agisce e è parte di quei perché a cui la ricerca qualitativa cerca di rispondere. i significati appunto radicati nel background socioculturale che danno senso alle pratiche, ai comportamenti, sono sempre impliciti, sono spesso impliciti e non emergono quasi mai come un prodotto completo, coerente e finito. Si costruiscono e si modificano in base al contesto di vita, alle relazioni di vita e al percorso di vita delle persone. Tant'è che la ricerca qualitativa dentro all'epidemiologia sociale fondamentalmente va a guardare quello che le persone fanno, alle esperienze delle persone calate nel proprio contesto di vita, all'interno di un sistema di relazioni ed in un determinato momento della propria biografia. Quindi qual è? Quali sono gli obiettivi principali che stanno alla base dell'utilizzo di strumenti qualitativi? Interpretare i fenomeni sociali nella loro complessità, quindi individuare gli elementi e i fattori entro cui l'esperienza soggettiva viene generata e tentare appunto di rispondere ai perché in relazione al fenomeno indagato. Come prima, diciamo, una delle parole chiave degli strumenti qualitativi e della ricerca qualitativa in generale è la centralità del contesto. Il mondo indagato è quello dei significati attribuiti dagli individui che sono costantemente dinamici. Non esiste una realtà universalmente valida e ne esistono molteplici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al parità di un evento patologico, due eventi patologici in due persone che abitano dei contesti di vita diversi, molto probabilmente genereranno delle esperienze su quel fenomeno patologico probabilmente diverse. E questo ha a che fare col contesto di vita, ha a che fare con le relazioni che le persone hanno in termini sia protettivi rispetto alla capacità di prendersi cura di sé, ma anche in termini di fragilità se per esempio le persone non hanno delle reti sociali che li supportino. L'attendibilità dipende sempre quando si parla di ricerca qualitativa dall'interpretazione dell'intervistatore, del ricercatore o della ricercatrice. È molto importante chiarire questo nel senso che dal punto di vista, come dire, l'intero processo di ricerca qualitativa è un processo interpretativo da parte del del soggetto della ricerca. Quindi lo stesso concetto di replicabilità è un concetto che nella ricerca qualitativa non ha non ha senso, non ha ragion d'essere, perché nella ricerca qualitativa è importante la singolarità dell'esperienza di malattia, per esempio, la singolarità del fenomeno sociale e anche la stessa idea di rappresentatività. è un'idea che per esempio differisce rispetto alla ricerca quantitativa, perché la rappresentatività dal punto di vista della ricerca qualitativa non cerca dati numerici, ma valutazioni personali. Poi vi spiegherò come un dato diventa rappresentativo dal punto di vista della ricerca qualitativa. Ci sono delle, come dire, delle metodologie che utilizziamo affinché un dato, per esempio, arrivi a saturazione, ma sicuramente non è, come dire, la rappresentatività dipende sempre dall'interpretazione che il ricercatore o che il gruppo di ricerca dà al fenomeno che sta osservando. Ecco, alla luce proprio di questo, che fa parte delle premesse della ricerca qualitativa, tutti gli strumenti di indagine qualitativi sono flessibili e possono essere riadattati nel corso dello studio. Quasi mai in una ricerca qualitativa noi definiamo prima della ricerca gli strumenti e li dobbiamo mantenere per mandato uguali nel tempo per tutta la ricerca. Questo assolutamente, come dire, è assolutamente no, nel senso che la ricerca qualitativa richiede che gli strumenti, man mano che si conosce il contesto, che gli strumenti di ricerca si adattino al contesto. Quindi, per esempio, la traccia di un'intervista, visto che parleremo dell'intervista, può essere modificata nel corso della ricerca man mano che il ricercatore acquisisce delle informazioni. Perché? Perché il processo di analisi inizia fin dal primo approccio con la realtà indagata. Quindi, se un ricercatore costruisce, per esempio, una traccia di intervista che ha dei blocchi tematici, è possibile che durante la propria ricerca ha saturato e soddisfatto dei dati, delle risposte che ha raccolto rispetto, per esempio, ad un'area tematica e nelle interviste successive decide, per esempio, di focalizzarsi sulle altre. Oppure, nel corso della ricerca, vengono fuori degli ulteriori interrogativi di ricerca che sono ulteriormente interessanti alla luce degli obiettivi della ricerca e quindi si decide di spostare il focus, per esempio, di modificare la struttura dell'intervista e di aggiungere, per esempio, delle domande. Gli stessi soggetti che vengono di volta in volta coinvolti nelle ricerche, come interlocutori, persone che vengono osservate, che vengono ascoltate, che vengono intervistate, possono cambiare in base alla loro pertinenza con il fenomeno da analizzare. Questo è importante perché ci fa capire quanto la ricerca qualitativa sia una ricerca dinamica, flessibile, processuale, che si adatta ai contesti di ricerca. Un elemento, un altro elemento centrale però alla luce di quello che sto dicendo è la dimensione del potere, nel senso che uno dei presupposti della ricerca qualitativa è che la ricerca qualitativa non può mai essere neutra. Perché? Perché c'è sempre una dimensione di potere tra intervistatore e intervistato, tra l'intervistato e il contesto in cui vive, tra l'intervistatore e il contesto in cui vive. Questo che cosa significa? Significa che proprio perché la ricerca qualitativa è una ricerca interpretativa, che si basa sui punti di vista soggettivi delle persone, lo stesso intervistatore, lo stesso ricercatore, ha delle proprie visioni soggettive sul fenomeno che va ad indagare. Per esempio delle visioni di genere, per esempio delle visioni date dalla proprietà, per esempio delle visioni etiche. E questo è molto importante chiarirlo, per esempio, all'interno di un gruppo di ricerca, perché molto spesso è necessario che all'interno del gruppo di ricerca, chi raccoglie i dati poi confronti più e più volte risultati con il gruppo di ricerca proprio per far sì che le dimensioni di potere non inficino eccessivamente l'interpretazione. Però ecco, mi è capitato diverse volte di condividere dei campi di ricerca con dei colleghi uomini, per esempio, o con dei colleghi con un'età molto diversa dalla mia, o con dei colleghi che avevano un approccio diverso all'utilizzo degli strumenti di ricerca e mi è capitato di raccogliere dei dati molto diversi. Questo ci ha richiesto chiaramente di ritornare sul campo più e più volte per capire qual era il dato che diventava significativo, cioè qual era il dato che diventava rilevante dal punto di vista della ricerca. Però col presupposto che non c'è una neutralità oggettiva all'interno della ricerca qualitativa, laddove la dimensione soggettiva la fa da padrone anche dal punto di vista del ricercatore o della ricercatrice. Come percorsi di ricerca, come cicli della ricerca non qualitativi, anche la ricerca qualitativa prevede una fase preliminare che inizia con la definizione degli obiettivi a cui segue l'individuazione dei soggetti dello studio perché tendenzialmente sono persone oltre che di tutte le altre fonti, la progettazione della ricerca e la circoscrizione del campo di studio, una fase operativa che è l'ingresso nel campo di ricerca con la raccolta dati che può essere fatta utilizzando strumenti diversi e una fase analitica che invece prevede per esempio la codifica dei dati, l'analisi, la valutazione e la discussione dei risultati all'interno del gruppo di ricerca fino alla stesura del testo finale. Ecco, è un elemento importante che appunto nella ricerca qualitativa lavora tanto con i testi, con i testi scritti, per cui, ma lo vedremo a breve, il frutto delle osservazioni, il frutto delle interazioni con le persone viene sempre tradotto in testi scritti che poi sono la base, il materiale dell'analisi. Di fatti appunto, quali sono le principali fonti di una ricerca qualitativa? Quelle scritte, documenti e atti istituzionali e ufficiali, materiali e prodotti scientifici, report divulgativi, ma anche fonti prodotte dal ricercatore o dalla ricercatrice, quindi note di terreno, appunti, diari, autobiografia, utilizzo di fotografie e video, fonti orali, testimonianze, racconti, narrazioni. La ricerca qualitativa lavora con informatori e informatrici, si chiamano così nel linguaggio tecnico, con dei testimoni privilegiati. ma sempre le fonti orali vengono in qualche modo, come dire, sempre i dati orali vengono in qualche modo registrati, fisicamente registrati per esempio con un registratore, oppure vengono prese delle note di campo nei diari di campo, però sempre poi si passa dalla forma scritta per poter poi iniziare l'analisi dei dati. Le tecniche sono tante, prima vi dicevo che alla base di tutte c'è l'osservazione, l'osservazione delle persone, un'osservazione che in alcuni casi, poi dipende dall'obiettivo dello studio, deve essere prolungata, in altri no, e poi ci sono diversi strumenti, e io oggi ho deciso di velocemente di parlarvi di tre strumenti diversi, che sono l'intervista in profondità, il gruppo di discussione o focus group e l'open space technology, che è invece uno strumento di ricerca che permette invece di coinvolgere moltissime persone, anche diverse centinaia. La cosa importante appunto è che sempre tutte queste metodologie, ripeto, prevedono comunque che il ricercatore o la ricercatrice si interfacci con dei soggetti rispetto ai quali si cerca di raccogliere delle informazioni legate ai propri vissuti, alle proprie esperienze, alle proprie percezioni. Allora, l'intervista in profondità, è lo strumento qualitativo per eccellenza. Perché è lo strumento qualitativo per eccellenza? Perché è quello più, diciamo, più basilare, nel senso che l'intervista prevede un'interazione diretta tra due persone, che sono il ricercatore o la ricercatrice e l'informatore, il testimone chiave. Si propone quindi come obiettivo quello di accedere alla prospettiva del suo interlocutore raccogliendo una grande quantità di dettagli, perché poi, come vedremo, questo è lo strumento che permette di andare più nel profondo, nelle specificità dell'esperienza personale. E' chiaro che io, nei miei strumenti qualitativi, quanto più persone coinvolgo contemporaneamente, tanto più superficiali saranno le informazioni, non meno interessanti, dipende chiaramente da quello che voglio andare ad indagare. L'intervista qualitativa è quella che permette di entrare in profondità proprio sulle esperienze, sui perché, come dire, che per esempio nel campo della salute e della malattia stanno per esempio alla base di un comportamento, di un'abitudine sanitaria. La conversazione è guidata dal ricercatore, che utilizza una traccia di conversazione. La traccia può avere diversi livelli di strutturazione o diversi livelli di libertà, nel senso che ci possono essere interviste non strutturate, in cui il ricercatore ha, diciamo, degli item di interesse, sa quali sono le sue aree contenutistiche, quindi decide di non avere una struttura, soprattutto in una prima fase di ricerca, perché vuol vedere con una ricerca, come dire, utilizzando un'intervista non strutturata, come dire, riesce a indagare tutti gli elementi che gli interessano, ma senza seguire una specifica struttura, ma riportando di volta in volta il discorso a quelli che sono gli obiettivi da indagare. Che non vuol dire chiaramente che è casuale, vuol dire che non è strutturata, vuol dire che sono assolutamente capace e consapevole degli obiettivi della mia intervista, che anche se la persona mi parla di altro, io riesco a riportarla comunque sugli obiettivi che voglio portare a casa. Ci sono poi delle interviste semistrutturate, come dire, che da definizione sono delle interviste che prevedono delle parti, come dire, che hanno delle parti con le quali il ricercatore sa quali sono gli elementi e i contenuti da coprire, quindi è proprio un canovaccio che guida la discussione, e poi invece ci sono interviste strutturate che vengono strutturate anche in maniera molto rigida perché l'intervista è costruita in modo tale da generare un tipo di ragionamento e questo tipo di ragionamento è finalizzato all'emersione dei dati che sono obiettivo della ricerca. Infatti vi ho portato un modello di intervista che si chiama MINI, appunto dall'Università La McGill, dove è stata prodotta, che è un protocollo di intervista semistrutturato e qualitativo che nasce in campo, nel campo, diciamo così, dell'etnopsichiatria o comunque della psichiatria transculturale. e benché nasca per cogliere le esperienze anche di chi non condivide lo stesso background socioculturale, è molto importante, risulta essere molto efficace anche con persone dello stesso contesto culturale. Io che intervisto una donna della mia età nata nella mia stessa città perché permette di non dare per scontato degli elementi culturali che caratterizzano le relazioni quotidiane che molte volte si rischia di dare per scontato proprio quando pensiamo che ci sia vicinanza culturale. Non voglio fare una digressione su questo perché non è chiaramente, come dire, l'obiettivo di questo intervento, però un campanello di allarme o meglio un segnale di attenzione è quello di pensare che gli elementi culturali siano in azione, cioè agiscano, soltanto quando per esempio abbiamo a che fare con persone non italiane o con persone straniere. Ecco, quando abbiamo di fronte delle persone straniere magari ci sono delle differenze più evidenti rispetto ad altre, quindi ci è più facile fare attenzione ad alcune dimensioni, ma le dimensioni culturali sono presenti in ogni forma di esistenza e non dobbiamo darle per scontato quando per esempio pensiamo che l'altro sia molto simile a noi culturalmente. Su questo ci possiamo tornare se pensate che possa essere utile. Ecco, questa è un'intervista composta di quattro parti e di 46 domande e tra l'altro vi ho lasciato nelle indicazioni bibliografiche anche il link alla versione italiana del documento che è stato tradotto in diverse lingue. Devo dire che è un tipo di intervista che è stato utilizzato moltissimo nella ricerca sanitaria. Ci sono 46 domande quindi è un'intervista che non può durare che per chi l'ha utilizzata noi l'abbiamo utilizzata molto non dura mai meno di tre ore ma anche molto di più tant'è che richiede un'intervista con cui si inizia a lavorare magari con una persona ma magari la persona la si incontra diverse volte e si sviluppano delle parti di intervista ogni volta però uno strumento utile che va in profondità perché per esempio aiuta proprio a capire quali sono le esperienze di salute e malattia per esempio richiede nella parte iniziale di fare di raccontare la propria esperienza di malattia con delle domande ampie che consentono delle risposte libere proprio ad una ricostruzione soggettiva della propria condizione anche perché tendenzialmente quando una persona soffre o quando una persona è malata è molto difficile raccontare e quindi delle domande aperte fatte in un certo modo permettono di riflettere sul senso di quello che è accaduto una seconda sezione della perdonatemi in cinque parti non so perché nel titolo ho scritto quattro parti una sezione che si chiama che viene definita narrazione prototipica che praticamente è composta di domande che cercano di indagare se se diciamo la persona che intervistiamo mette in atto delle analogie rispetto a quello che gli sta accadendo per esempio i miei zii morirono di cancro e polmoni l'anno scorso per questo mi spaventai al punto da smettere di fumare è un tipo di meccanismo di pensiero di tipo analogico è la seconda sezione diciamo così di questa intervista fa delle domande proprio per sollecitare per capire se ci sono delle analogie di questo tipo una terza fa una terza parte diciamo di questa così una terza parte di questa di questo modello di intervista va invece a vedere se ci sono dei modelli quelli che l'antropologia medica chiama modelli esplicativi ovvero delle connessioni causali che la persona attribuisce tra la situazione di malattia e i fattori che l'avrebbero fatta insorgere attenzione perché molto spesso le connessioni causali che le persone fanno non sono quelle non sono causali dal punto di vista per esempio della biomedicina dal punto di vista della biologia dal punto di vista organico ho avuto un attacco di cuore perché ero troppo affaticata soffro di emicrania perché sono molto stressata ho delle continue palpitazioni e lo dico perché mi sono occupata a lungo di patologie cardiologiche ho delle continue palpitazioni perché ho una figlia adolescente che esce di notte spegne il telefono ci sono nelle esperienze di malattia è importante alla luce come dire al fine per esempio di costruire delle politiche che comprendano che siano percorribili dalle persone è necessario comprendere anche quali sono le cause che le persone attribuiscono ai propri stati di salute e malattia altrimenti per esempio si rischia di proporre dei percorsi terapeutici poco percorribili o poco efficaci perché le persone non colgono il senso e quindi questo è una come dire qualora negli obiettivi della ricerca chiaramente ci sia ci siano questi interessi questa è un'intervista che ha una parte dedicata a questo tipo di meccanismi di riflessione rispetto alla propria condizione poi c'è tutta una parte dedicata ai servizi e di risposta al trattamento nel senso che si indagano le esperienze di assistenza e cura nei servizi oppure le possibili tipologie di cura a cui la persona pensa che non sempre sono quelle legate ai servizi sanitari e quindi questo permette di identificare le motivazioni e i significati che stanno dietro ai comportamenti per esempio le persone non complianti le persone non aderenti tante volte le relazioni terapeutiche saltano perché si genera conflitto anziché come dire generare aderenza ebbene in questa sezione ci sono delle domande che permettono di capire quali sono le motivazioni che stanno dietro a comportamenti di un certo tipo e poi l'impatto sulla vita si indagano nell'ultima parte di questa di questa struttura di intervista le idee relative alle possibili ricadute che l'esperienza di malattia o di sofferenza può avere sulle condizioni di vita delle persone perché perché alle volte i servizi sanitari come dire gli operatori sanitari sanno che il problema di salute non è grave invece le persone lo recepiscono come un problema con una percezione della gravità diversa per esempio rispetto a quella che è nella mente o nelle indicazioni degli operatori sanitari oppure in alcuni casi per esempio gli operatori sanitari tentano di restituire alla persona una un'idea di gravità molto elevata invece per esempio la persona in alcuni casi pare non avere un'idea molto meno con una ricaduta rispetto agli effetti della patologia meno importante questo quindi questa parte dell'intervista permette proprio di indagare come alla luce di un'esperienza di malattia si pensi alle malattie croniche si pensi alle malattie oncologiche si pensi alle malattie che hanno delle ricadute grosse quanto l'esperienza di malattia come dire agisce sia dal punto di vista identitario perché devo cambiare per esempio dei piani di vita dei programmi rispetto a quella che la mia vita alla mia vita per esempio a breve termine quanto per esempio incide sull'organizzazione delle famiglie rispetto a chi si prende cura di chi e quindi questa parte potrebbe dare delle informazioni importanti rispetto per esempio alla capacità della persona o della famiglia di attivare risorse o di percorrere percorsi di cura è chiaro che questa è una un modello di intervista ce ne possono essere tante ve l'ho portata perché è un modello di intervista come dire abbastanza semistrutturato che può essere preso come modello per capire come funziona un'intervista e soprattutto però con l'idea che poi i ricercatori tendenzialmente almeno nella mia esperienza si costruiscono le proprie tracce di intervista in base a quelle che sono gli obiettivi della ricerca è chiaro che questa intervista è funzionale a chi vuole andare ad indagare esattamente questo ovvero le esperienze di malattia dentro i servizi sanitari il focus group passiamo ad un altro tipo di di strumento qualitativo che è uno strumento qualitativo invece come dire che resta più in superficie perché è uno strumento qualitativo che noi utilizziamo con un piccolo gruppo di persone su un tema un argomento specifico e perché si organizza un focus group si parte sempre dall'idea di cogliere percezioni modi di pensare comportamenti su determinati relativi a determinati argomenti però anche farlo in maniera come dire più collettiva nel senso che utilizziamo per esempio il focus group quando ci interessa che delle persone identificate chiaramente secondo dei criteri si confrontino su un determinato argomento quindi mi interessa meno andare in profondità sull'esperienza specifica della persona e mi interessa molto di più promuovere un confronto una riflessione congiunta rispetto a quella problematica tra più persone che per esempio hanno esperienze di vita o sono in un osservatorio diverso rispetto ad un determinato fenomeno quindi fondamentalmente posso utilizzare un focus group perché determinate persone si conoscano ma anche perché conoscano le proprie opinioni ma anche perché si formino delle opinioni sentendo parlare gli altri attraverso il confronto con gli altri è una discussione guidata che avviene in un ambiente accogliente dove non ci siano forme di disturbo diciamo tendenzialmente non si organizza un focus group dove arriva qualcuno ad aprire una porta e ad interrompere la riflessione di gruppo diciamo i libri di metodologia dicono che non ha senso se ci sono meno di sei persone ma neanche se ce ne sono più di dodici perché comunque meno di sei sono troppo poche per attivare delle dinamiche di gruppo e più di dodici invece non si riesce comunque ad avere una 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 discussione mediamente approfondita nell'arco delle due ore perché un focus group non supera quasi mai le due ore e dunque e ci sono delle questioni che riguardano sicuramente la selezione sia dei partecipanti che degli intervistatori questo è importante perché per esempio le caratteristiche dei partecipanti variano in base agli obiettivi del focus group ci sono focus group che per esempio richiedono dei partecipanti omogenei tutti gli infermieri che lavorano in un determinato reparto tutti i pazienti che utilizzano un servizio per esempio oppure che richiede eterogeneità le diverse professioni che lavorano in un determinato spazio perché è chiaro che questo cambia in base a quello che mi interessa sapere la stessa cosa ha a che fare con chi conduce il focus group perché ci sono delle circostanze in cui è bene che il focus group venga condotto da persone molto esperte del tema di ricerca quindi che so io le malattie neurodegenerative ora penso a una delle ricerche che ho condotto negli ultimi anni oppure che il ricercatore cioè che colui che conduce il focus group sia piuttosto esterno agli argomenti specifici del focus group proprio perché riesce a mantenere quella lucidità metodologica rispetto alle questioni che interessano alla ricerca quindi per esempio non entrare in dettagli non so clinici legati alla diagnostica sulla della SLA laddove a cui come dire come dire digressioni tecniche che possono partire da una discussione che coinvolge tutti i neurologi molti esperti perché invece alla ricerca interessa la parte organizzativa e quindi avere un ricercatore che non sia un clinico di quella specifica patologia ma sia invece un esterno aiuta a mantenere questo tipo di equilibri a mantenere il focus sulla propria sui propri obiettivi di ricerca è chiaro che quando si selezionano i partecipanti bisogna anche capire le relazioni di potere che ci sono tra le persone nel senso che se io invito dei pari è più facile che mi dicano delle cose in maniera libera rispetto ad avere delle persone che sono posizionate dentro delle gerarchie se io partecipo a un focus group con la mia responsabile la mia responsabile con il direttore della struttura probabilmente tutti a titolo diverso saremo meno liberi di dire delle cose probabilmente comunque emergeranno degli elementi di interesse perché se per esempio la ricerca vuole andare ad indagare come la gerarchia agisce sul lavoro in un determinato contesto terapeutico è possibile che mi fa bene cioè che potrebbe essere utile avere delle persone che sono in ruoli asimmetrici e osservare anche quali sono le dinamiche di interazione tra il gruppo quando si conduce un focus group è importante spiegare gli obiettivi della ricerca e temi da trattare subito avviare l'interazione mantenere la discussione focalizzata sull'argomento e controllare le dinamiche di gruppo proprio per questo di solito il moderatore cioè colui che gestisce il focus group è sempre affiancato da un facilitatore da uno perdonatemi da un osservatore o da un osservatrice perché perché mentre il conduttore del focus group appunto fa le domande e cerca di tenere il gruppo focalizzato sulle sui contenuti della ricerca l'osservatore non interviene nella discussione però osserva le dinamiche di gruppo prende appunti sui temi emersi aiuta il moderatore nella gestione degli aspetti più pratici per esempio l'utilizzo di lavagne registratore si annota i turni di parola per esempio se è importante non so annotare in alcuni casi si fa la mappa del tavolo si attribuisce un numero ad ogni partecipante poi si annota il numero di chi parla proprio perché poi nella ricostruzione di quello che è emerso si riesce ad identificare chi ha detto determinate cose anche in base per esempio al ruolo che ha dal punto di vista professionale la traccia deve essere una traccia guida che ha poche domande tendenzialmente si parte dalle domande più semplici e più generali all'inizio per poi passare gradualmente a quelle più specifiche le domande iniziali sono soprattutto domande narrative domande descrittive domande tipizzanti che tipo di persone siete soliti incontrare che tipo di problematiche siete soliti vedere che tipo di sensazioni avete provato domande valutative come valutate il servizio X oppure appunto le narrative sono quelle più aneddotiche potreste raccontare una giornata tipo di lavoro nel servizio X queste sono le domande di apertura mentre poi dopo si va gradualmente verso domande più specifiche sugli argomenti più specifici che il focus gruppo vuole per esempio approfondire qui vi ho messo nelle slide comunque qual è lo schema un possibile schema di conduzione in cui chiaramente oltre all'introduzione al benvenuto all'esposizione dello scopo della discussione informare sull'anonimato e la modalità di trattare i dati chiedere il consenso alla registrazione per esempio che è importante ed è quasi sempre utilizzata tranne in alcuni casi perché ci sono dei casi molto sensibili in cui è bene non registrare perché perché i partecipanti non direbbero nulla di fronte ad un registratore acceso e poi esplicitare le regole da seguire nel corso della discussione per esempio non è necessario seguire un ordine particolare alzare la mano se volete prendere parola non interrompere non sovrapporsi è giusto che partecipino tutti e giù di lì ogni ricercatore poi prima di condurre un focus gruppo si fa la sua scaletta di di buone regole da voler condividere con i propri con i propri partecipanti l'ultima metodologia che volevo farvi vedere è l'open space technology che invece è un tipo di metodologia completamente diversa che utilizziamo molto per esempio noi nei processi di ascolto partecipati è perché è un laboratorio narrativo che può coinvolgere diverse centinaia e di persone parte dal presupposto diciamo vi ho messo le indicazioni di chi un po' l'ha codificato come metodologia parte dal presupposto che nel corso per esempio di un evento pubblico tipo una conferenza le informazioni più interessanti vengono fuori durante la pausa caffè piuttosto che nelle fasi di lavoro e quindi l'idea è quella di strutturare per esempio un'intera conferenza o degli eventi come se fossero una come dire una lunga pausa caffè in modo tale che le persone si sentano libere di far emergere gli argomenti a cui sono interessate e se emergono interessi comuni i partecipanti saranno in grado di auto-organizzarsi e di raggiungere il proprio scopo quindi questa è proprio una metodologia che non prevede il controllo della ricerca proprio della conduzione da parte del ricercatore il gruppo di ricerca definisce le tematiche attiva le discussioni però tendenzialmente poi sono le persone che decidono liberamente di cosa parlare ed è importante per esempio quando abbiamo non so vogliamo fare un'analisi delle analisi più di comunità non so ci interessa capire in un determinato quartiere come vengono vissute certe cose se si devono prendere delle decisioni più partecipate in termini che so io di promozione della salute che cosa fare di un determinato spazio come gestire una determinata situazione che so io legata alla sicurezza ecco questa è una di quelle metodologie che vengono utilizzate quando appunto ci sono molte persone da voler coinvolgere quindi chiaramente molto poco in profondità e invece in maniera allargata tutti hanno la possibilità di partecipare deve essere aperto quando c'è la chiamata è importante che poi e chi vuole possa partecipare e possono partecipare diverse centinaia di persone sono stati fatti degli open degli host anche con migliaia di persone può durare anche diversi giorni e tendenzialmente la struttura prevede che nella prima parte si discute in maniera informale cominciando un po' a conoscere i vari punti di vista e gli argomenti di discussione si passa ad una seconda fase in cui si discute approfonditamente del tema in questione nella terza fase per esempio si prendono decisioni è un metodo che prevede comunque dei principi e questi principi sono legati al fatto appunto che è una come dire è un contesto di partecipazione e il presupposto delle metodologie più di ricercazione delle metodologie partecipative prevedono che tu attivi la partecipazione ma poi chiunque arriva è la persona giusta nel senso che quello che emerge è legato alle persone che sono presenti in quel determinato momento in quella determinata situazione con quelle persone che stanno discutendo quel tema quindi non ci si può come dire quando si fa un host non ci si preoccupa più di chi non c'è ma si guarda al contributo di chi sta partecipando in quel determinato momento e e poi che quando è finita è finita nel senso che nella stanza nello spazio che accoglie l'open space technology si parte da un momento di plenaria si sceglie insieme in plenaria con un facilitatore quali sono i principali temi di discussione chiaramente con delle piste di lavoro che è definite dal gruppo di ricerca si creano dei gruppi in base a degli argomenti e poi le persone possono spostarsi liberamente tra i gruppi nel senso che seguono la legge dei due piedi cioè se una persona si accorge che non sta imparando e non sta contribuendo alle attività si alza e si può spostare in un altro gruppo il setting deve essere uno spazio tale da accogliere il numero di partecipanti previsto una stanza grande da poter ospitare tutti i partecipanti più altre stanze più piccole dove poter creare dei gruppi di lavoro è importante che ci siano delle pareti perché spesso cioè perché i partecipanti scrivono e producono dei report e quello che si chiede a ogni gruppo di lavoro è di redigere un instant report e ogni gruppo di lavoro ogni gruppo di discussione deve comunque produrre prima di lasciare la stanza un rapporto delle questioni principali che sono emerse non c'è il ricercatore nella redazione di questo documento è un documento che viene prodotto dalle persone che partecipano e chiaramente c'è sempre una zona dedicata alla pausa caffè alla fine di tutto il processo di ricerca tutti gli instant report potete immaginare che diventano il materiale che i ricercatori raccolgono e su cui lavorano quindi il ricercatore facilitatore definisce i tempi gli spazi lancia delle tematiche e raccoglie i principali argomenti di discussione quindi io in una plenaria espongo il problema da trattare espongo il mio obiettivo di ricerca e chiedo alle persone quali sono per esempio gli argomenti da cui vogliono partire per discutere i temi principali quindi il facilitatore gestisce la creazione dei gruppi di lavoro però poi i gruppi si autogestiscono e producono i report istantanei dei propri lavori alla fine delle giornate di lavoro c'è una sessione di chiusura ed è importante che i report tutti gli stand report vengono comunque come dire vanno a comporre un documento non analizzato ancora dal ricercatore cioè un documento che contiene tutti gli stand report di tutti i gruppi che hanno partecipato e comunque subito viene fornita una coppia personale a tutti i partecipanti all'attività di ricerca perché comunque questa è una metodologia che prevede partecipazione e controllo delle informazioni da parte delle persone è una metodologia di ricercazione per cui prima ancora poi di passare alla fase analitica della ricerca è importante in questa metodologia che comunque prevede una sua struttura che ci sia già una restituzione ai partecipanti degli argomenti che sono emersi durante le giornate di lavoro mi avvicino alla conclusione sono in ritardo Marta ho ancora due minuti no no nessun problema ok e allora mi avvicino alla conclusione perché come vi dicevo mi sono concentrata molto di più sulla parte di come dire sugli strumenti di raccolta dati ed è anche però chiaro che c'è tutta una parte potremmo parlare ancora qui qualche ora su invece come si analizzano i dati come devono essere trattati i dati raccolti è chiaro che anche le tipologie di analisi dipendono molto dallo scopo che è dietro alla raccolta dati e io come dire vi dirò qualcosa su quelle che sono le tipologie di analisi che io e noi utilizziamo tendenzialmente nei nostri processi di ricerca in generale dove è possibile innanzitutto registriamo chiaro che in un osto non è possibile però dove è possibile registriamo e trascriviamo tutte le registrazioni rileggiamo e sistematizziamo gli appunti perché l'analisi che andiamo a fare è un'analisi innanzitutto testuale sui testi scritti e poi tematica che cosa vuol dire che andiamo ad identificare nei nostri testi quali sono proprio i termini più utilizzati e a partire dai termini più utilizzati iniziamo a costruire un'analisi dei contenuti in cui andiamo ad identificare i temi le tematiche più importanti che sono emerse se i materiali sono molto estesi utilizziamo dei software per l'analisi per esempio in azienda Usla Reggio Emilia avevamo a Class T che è uno dei software che insomma che almeno io sono abituata ad utilizzare di più qui invece in agenzia abbiamo in vivo e quindi come dire sono software molto simili che però ti permettono di utilizzare come dire di andare ad analizzare dal punto di vista delle tematiche una grossa quantità di dati perché potete immaginare come dire non lo so il resoconto di 50 interviste il resoconto di 20 focus group possono essere anche proprio come dire decine centinaia di pagine di un testo e una delle appunto una delle una tipologia di analisi che io sono abituata ad utilizzare appunto l'analisi tematica vi ho lasciato i riferimenti bibliografici è un tipo di analisi che per di analisi qualitativa che nasce in campo in realtà psicologico ma che viene molto utilizzato in campo sociologico e antropologico e appunto prevede che il materiale come vi dicevo venga messo in forma scritta anonimizzato e viene letto con lo scopo di identificare dei codici di rilevanza semantica assegnati alle porzioni di testo vuol dire che lo posso fare anche con un software ma quello che io faccio ed è una fase analitica già questa leggendo il mio testo mi vado proprio a fare delle sottolineature come se mettessi non so dei post-it con il nome del contenuto quindi non so esperienza di malattia assistenza territoriale accesso alla diagnosi cioè io vado proprio a fare una prima lettura del mio testo e a crearmi dei codici e i software permettono proprio di selezionare il testo e di associare dei codici e poi di costruire degli alberi di codici che vanno a creare delle tematiche e delle sottotematiche questo permette appunto di fare un'analisi tematica di quelli che sono i contenuti principali emersi dai miei testi e quindi dalla mia ricerca insieme nel gruppo di ricerca le tematiche che poi non sono altro che una organizzazione del testo in blocchi di contenuti vengono riviste ridefinite ripensate nel gruppo di ricerca proprio per valutare se sono pertinenti perché come dire non è un lavoro di ricerca come vi dicevo proprio perché c'è molta soggettività analitica quest'operazione viene fatta spesso da più persone più persone leggono per esempio ov'è possibile chiaramente più persone leggono lo stesso testo provano a vedere che codici identificano e che tematiche identifiche identificano e poi si puliscono i dati cercando di capire effettivamente quali sono le tematiche e le sottotematiche più pertinenti più obiettive e più esaustive le tematiche quindi vengono riviste e ripensate per meglio definirle in funzione dei contenuti e poi la versione finale delle tematiche in realtà rappresenta l'ossatura dei risultati la fase interpretativa si conclude dando riscontro alle domande di ricerca ovvero alle ipotesi teoriche iniziali oppure chiaramente creando delle nuove prospettive io ho finito mi scuso se sono andata un po' veloce però ci tenevo a presentarvi tutti e tre gli strumenti se ci sono domande se ci sono grazie Anna grazie della bella presentazione che hai condiviso con noi in chat potete porre le domande ce n'è già una adesso leggo e allora quando si sceglie si scelgono di applicare i metodi qualitativi abbiamo detto che la ricerca qualitativa è utile se si vuole andare in profondità per indagare un fenomeno allora è più utile se si vuole indagare fenomeni rari fenomeni di cui sia scarsa conoscenza e allora dipende nel senso che nel senso che in un processo di ricerca la ricerca qualitativa può essere utilizzata tendenzialmente la ricerca qualitativa può sia precedere che seguire per esempio quella quantitativa non so a me è capitato di faccio un esempio penso per esempio ad un lavoro che abbiamo che abbiamo discusso proprio stamattina sono stati fatti c'è un progetto nella città di Bologna sulle disuguaglianze sulla diffusione di disuguaglianze in salute nella città di Bologna dove sono state fatte delle rilevazioni innanzitutto quantitative rispetto non so alla presenza al carico di un certo tipo di patologie di patologie croniche legate agli stili di vita legate alle condizioni di vita c'è poi accanto tutta una parte di ricerca qualitativa che va invece ad approfondire determinati aspetti e li va ad approfondire non perché siano rari ma perché come dire la ricerca quantitativa non riesce ad approfondirli che per esempio che so io quali sono i servizi perché si utilizzano dei servizi anziché altri per esempio nonostante i primi siano più vicini ad alcuni contesti di vita ma io scelgo di fare più strada e di andare in altri servizi per esempio o perché nonostante ci siano delle domande sanitarie molto alte in un determinato territorio l'accesso ai servizi è molto scarso oppure quali sono le prospettive di una determinata barriera all'utilizzo dei servizi da parte dei residenti di un determinato quartiere per esempio non so la conflittualità si parlava stamattina un'alta conflittualità in un determinato quartiere tra persone che abitano nell'edilizia popolare e persone invece residenti proprietari di abitazione nello stesso quartiere per esempio quindi sicuramente se abbiamo un fenomeno come dire una conoscenza molto scarsa di un fenomeno la ricerca qualità la ricerca qualitativa può essere utile per andare in profondità per esempio per definire due tre elementi che voglio andare ad approfondire ad inquadrare con quella quantitativa però diciamo che i due tipi di ricerca possono essere integrate in forme diverse anche in base a quelli che sono gli interessi appunto della ricerca tutta non so se sono riuscita a rispondere per me sì che avevo un dubbio simile è stato utile la tua risposta sì io nella mia esperienza ho visto ricerche anche solo qualitative per dire che nascono e finiscono solo qualitative e invece ricerche che integrano strumenti proprio perché riescono sono efficaci per motivazioni diverse e quindi per esempio faccio un profilo di salute da un punto di vista quantitativo di un determinata di una determinata della popolazione di un determinato quartiere però poi ci sono delle questioni che voglio andare ad indagare da un punto di vista qualitativo perché non so per esempio per pensare delle politiche delle attività di promozione della salute devo pensare a delle attività che poi le persone però poi fanno perché tante volte ci ritroviamo a delle attività non so a pensare delle attività che dovrebbero essere delle attività partecipative però poi le persone non ci sono no e questo accade quando non definiamo con le persone i loro bisogni per esempio no facciamo una parte di ricerca quantitativa che ci dice qual è il bisogno qual è la domanda di assistenza però come poi dobbiamo implementare cioè quali tipi di risposte e come elaborare queste risposte per esempio da un punto di vista organizzativo in quei casi spesso è utile andare a lavorare con le persone con delle modalità qualitative più partecipative perché le persone ci dicono per esempio quali sono le strade più percorribili anche alla luce delle condizioni di vita in un determinato quartiere ora penso sempre alla ricerca sulle disuguaglianze perché ripeto ci ho lavorato questa mattina perché eravamo proprio in un laboratorio su gli strumenti di mappatura partecipativa nei contesti di vita delle persone e lì c'era una grossa integrazione tra una parte più statistica e quantitativa e una parte invece più qualitativa capito quindi in effetti si sono davvero molto versatili questi strumenti a seconda del fenomeno dell'obiettivo della ricerca si possono applicare diversi adattare ed è proprio fa parte proprio della natura della natura ontologica della ricerca qualitativa la ricerca qualitativa deve adattarsi ai contesti quindi per esempio non so facciamo una mappatura oggi per esempio appunto in tre quartieri diversi sono state fatte tre tipi di mappature molto diverse per quale motivo perché sono state costruite con gli abitanti con i residenti dei tre quartieri e avevano anche loro delle come dire hanno deciso che cosa andare a inserire nelle mappe per esempio perché avevano degli obiettivi e delle domande molto diverse quindi non so da una parte le mappe hanno appunto registrato diciamo rappresentato i servizi i servizi proprio sociali e sanitari un'altra mappa invece è andata a mappare molto di più le traiettorie che fanno le persone per esempio in cerca di cura che non si rivolgono solo ai servizi magari si rivolgono a un'associazione piuttosto che a una famiglia di amici e in un altro quartiere un'altra mappa ancora grazie allora leggo un'altra domanda che è arrivata quanto spesso i risultati dell'analisi qualitativa vengono utilizzati per strutturare e o valutare i progetti di interventi sul territorio e allora quanto spesso posso rispondere dal mio osservatorio nel senso che io penso di lavorare cioè di aver lavorato in questi anni in aziende piuttosto virtuose da questo punto di vista cioè ovvero dove c'era molta sensibilità sia verso la ricerca che verso la ricerca anche qualitativa e quindi posso dire che per dire tutti in questo momento per dire sto lavorando ad un percorso proposto dalla regione Emilia Romagna a tutte le aziende della regione in cui si chiede a tutte le aziende di elaborare dei percorsi di promozione della salute per la fase per la popolazione di adolescenti e preadolescenti e sono coinvolte tutte le ASL della regione sono coinvolti anche tanti altri enti locali diciamo i gruppi di ricerca i gruppi di lavoro sono intersettoriali non sono assolutamente solo sanitarie o solo sociali e in quel caso lì tutti i gruppi di lavoro ci sono dodici progettualità hanno una parte di prevedono una parte di ricerca qualitativa o comunque di ricercazione partecipata cioè di strumenti di ricerca che prevedono di andare ad indagare il punto di vista soggettivo delle persone e quindi è un percorso particolarmente virtuoso quando ero nell'azienda Uslo di Reggio Nilia per esempio io ero in servizio di ricerca dove molte delle attività di ricerca dell'azienda aveva utilizzavano anche dati qualitativi per andare a come dire verificare l'efficacia di alcuni programmi per esempio di promozione della salute però non riesco a dirci sicuramente non è la prassi e penso che questo cambi moltissimo rispetto ai vari contesti in Emilia Romagna si lavora molto in collaborazione per esempio tra aziende sanitarie e università e bisogna capire anche cosa chiediamo alle università se per dire l'azienda Uslo di Bologna sempre se evoco adesso mi scuso soltanto perché ripeto è stato uno degli argomenti di questa mattina l'azienda Uslo di Bologna quando ha fatto questo lavoro sulle disuguaglianze si è rivolta ad un gruppo di ricerca dell'università di Bologna che prevede sia una parte come dire che ha dentro sia epidemiologi che si occupano di studi quantitativi ma anche tutta una componente antropologica che utilizza i dati qualitativi non solo in fase di valutazione e attenzione in fase di costruzione delle progettualità in fase di raccolta dati e in fase di valutazione perché su tutte le fasi del ciclo del progetto può essere utilizzato l'uno e l'altro strumento cioè gli strumenti qualitativi ti possono essere utili sia quando vai ad identificare per esempio le condizioni preliminari alla costruzione per esempio di una progettualità e anche per esempio per valutare le ricadute o l'efficacia di un determinato progetto quindi come dire non solo una valutazione di esito ma anche proprio come dire delle valutazioni di processo però sul quanto spesso non riesco a rispondere perché dipende davvero cioè immagino che voi qui siate come dire in diverse parti d'Italia quindi ognuno in un contesto molto diverso rispetto a all'utilizzo delle proprie cioè di determinate discipline ti leggo la domanda successiva da parte di Anna Maria che chiede i metodi di rilevazione sembrano essere adatti alla psicometria vengono utilizzati? non è il mio campo di ricerca quindi non lo so anzi o meglio sì vengono utilizzati però sicuramente con delle come dire con degli obiettivi anche un po' diversi però diciamo che tutte le scienze cioè sono metodi di ricerca che sono molto comuni a tutto il gruppo delle discipline che vengono chiamate discipline socio-umanistiche o le scienze umane che sono la psicologia la sociologia la pedagogia e l'antropologia diciamo che questi quattro grandi settori disciplinari come dire utilizzano strumenti di ricerca come questi poi ognuno come dire rispondendo agli obiettivi della propria disciplina però è molto probabile che vengano utilizzati però ripeto io non lo faccio come dire non li ho mai utilizzati in quel campo di ricerca io insegno antropologia medica nella facoltà di medicina di Bologna e effettivamente nella facoltà di medicina di Bologna l'antropologia medica è integrata al corso di psicologia per esempio e mi rendo conto che gli stessi strumenti di ricerca qualitativi vengono utilizzati anche come dire in campo di psicologia applicata però con delle finalità che francamente non controllo mi sfuggono perché non sono nel mio contesto di ricerca ti leggo ancora un'altra domanda di Anna Maria che chiede la soggettività del rilevatore probabilmente vale anche per la ricerca quantitativa che ne pensa? no posso chiederti Marta di ah scusa perché tu non le leggi allora te la ripeto più piano la soggettività del rilevatore di cui parlavi si chiede probabilmente vale anche per la ricerca quantitativa che ne pensi? beh però viene utilizzata in maniera diversa nel senso che nella ricerca qualitativa o meglio nella ricerca quantitativa come dire bisogna fare a te molta attenzione affinché per esempio non diventi un bias invece nella ricerca qualitativa è proprio uno degli elementi costitutivi che non vuol dire attenzione che nella ricerca qualitativa la soggettività debba inficiare poi la rappresentatività dei dati o la significatività dei dati però tant'è che non a caso i dati si controllano e ricontrollano dentro i gruppi di ricerca e quando sono dei dati complessi si controllano come dire si chiede anche ai ricercatori esterni alla ricerca di valutare come dire di interrogare i dati per vedere se si ritrovano come dire se coincidono i risultati però io penso che la soggettività in una ricerca quantitativa sia una soggettività molto più legata alla tipologia della ricerca al contenuto che so io etico politico di posizionamento della ricerca però non come dire come elemento della raccolta dati mentre invece nella ricerca qualitativa è proprio un elemento costitutivo della raccolta dati che è l'analisi come dire l'analisi interpretativa dal punto di vista del ricercatore o della ricercatrice non so se sono riuscita ad essere chiara sì sì ne fa parte è una cosa proprio diversa sì ok l'altra domanda è allora partendo con scarsa finanze con scarse finanze ma ho molta voglia di indagare un fenomeno con quale tipo di ricerca qualitativa ci consiglierebbe di iniziare e allora chiaramente dipende dal fenomeno e vi chiedo vi mi scuso un attimo ma devo ecco e allora tutte le ricerche quantitative chiaramente sono un grande investimento di tempo e io penso che dipende chiaramente dai dati che si dalla qualità dei dati però sicuramente io inizierei da delle metodologie di ricerca che magari in prima battuta coinvolgono più persone come per esempio dei focus group che sono delle metodologie di ricerca non complesse come un host perché insomma gestire una quantità di popolazione molto elevata vuol dire anche riuscire a mantenere gli obiettivi di ricerca in maniera più più complessa invece i focus group avendo un gruppo che non supera le dieci dodici persone ti permette di avere già una buona rappresentatività dei dati se fai alcuni focus group vi faccio un esempio per avere non so un'idea un po' di stiamo in regione abbiamo degli ultimi mesi elaborato un percorso partecipato sul prossimo piano della ricerca sanitaria ovvero invece di definire soltanto numericamente quali fossero i nuovi obiettivi di ricerca sanitaria cioè dove la ricerca sanitaria dal punto di vista della regione dovesse concentrarsi che poteva essere quindi la maggior parte che so di produzione scientifica né regionale nei gruppi di ricerca negli insomma potevamo avere diverse informazioni già come fonti di dati abbiamo deciso di andare a chiedere a soggetti di diverso tipo non solo clinici oppure ricercatori ma anche per esempio professionisti dell'assistenza territoriale come medici di medicina generale o pediatri quali fossero dal loro punto di vista le priorità in termini di ricerca a cui si doveva dedicare la regione Emilia Romagna e abbiamo fatto non più di dieci focus gruppo per esempio e sono stati già sufficienti per arrivare ad elaborare una quantità come dire all'emersione di una quantità di dati che insieme poi a tutta un'altra serie però di strumenti è stata sufficiente le interviste in profondità sono un grande investimento quindi piuttosto se all'interno di un focus gruppo all'interno di una metodologia che prevede la partecipazione di più persone io identifico delle persone che possono avere dei punti di vista particolarmente interessanti quindi focus gruppo incontro 12 persone 5 in focus gruppo ne incontro 50 se identifico delle persone che possono avere dei contributi particolarmente utili per la mia ricerca poi vado a fare l'intervista in profondità per esempio solo a quelle persone questa potrebbe essere una buona strategia costi benefici rispetto ai tempi della ricerca è chiaro che quanto più faccio delle interviste in profondità tanto più è un investimento di tempo ti faccio l'ultima domanda è chiaro perdonami Marta è chiaro che se però poi mi interessa non so lavorare in un reparto oncologico e entrare nel profondo su certe questioni legate per esempio a quel tipo di servizio è chiaro però che probabilmente un focus group che è una metodologia dove io incontro più persone non sia applicabile se devo entrare come dire se mi serve capire le esperienze di vita delle persone che utilizzano quel servizio probabilmente se sto parlando di una condizione di patologia che ha degli elementi di sensibilità tali che non possono essere magari condivisi in un focus group lì dovrò fare delle interviste in profondità quindi di nuovo gli strumenti vanno oltre chiaramente alla necessità di massimizzare i tempi e gli sforzi devono essere comunque adattati al contesto io non ho mai potuto fare un focus group con dei pazienti in un ospedale l'ho fatto con medici l'ho fatto con infermieri abbiamo fatto dei focus group che era proprio una ricerca formazione perché abbiamo utilizzato il focus group per fare anche formazione su determinati argomenti ma con i pazienti non sono mai riuscita io ho dovuto intervistare in ospedale o spesso fuori dall'ospedale perché è stato molto difficile condividere determinate tematiche se si decideva di andare nel profondo come fa per esempio quell'intervista lì grazie molto interessante quindi già un'indicazione del fatto che se fai indagni un fenomeno e l'intervista sono rivolta ai pazienti solo un tipo di metodo è adatto sì perché ci sono anche gruppi in generale sì ci sono anche gruppi di pazienti che si prestano a parlare della propria condizione in maniera collettiva in un gruppo però a parlare per esempio della propria condizione degli elementi comuni del funzionamento del servizio però se già tu hai bisogno di andare nella profondità dell'esperienza di vita quindi non so sapere quali sono le condizioni economiche della persona se fa fatica non so a fare tutti i percorsi riabilitativi perché comunque hanno un costo e a un certo punto la persona deve decidere se andare dal dentista o fare l'ennesimo ciclo di riabilitazione questo è un po' difficile che emerga in un focus group allora dipende se ti interessa il funzionamento del servizio vuoi la voce dei pazienti puoi fare un focus group ma non vai molto nel profondo su questioni legate alla soggettività poi magari qualcuno le tira fuori quelle questioni lì ma è la persona che sceglie di condividerle difficilmente tu fai delle domande così personali in un focus group all'interno di un servizio sanitario se hai dei pazienti è tutto molto delicato e ripeto è sempre lo strumento che si adatta al tipo di domanda di ricerca e al tipo di persona che hai di fronte c'era un'altra domanda sì l'ultima per adesso se non ne arrivano altre Giovanni Cappella che chiede cosa cambia tra facilitatore e moderatore no è la stessa cosa ho scritto facilitatore o moderatore no 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 sono sinonimi nel senso che il facilitatore o il moderatore è colui che conduce e invece l'osservatore osserva senza entrare nella conduzione e quindi no non c'è non c'è differenza il facilitatore o il condotto o il moderatore appunto in un focus group moderano la discussione è chiaro che in una in una metodologia che coinvolge più gruppi cioè come dire più persone aumenta il ruolo di facilitatore dei processi partecipativi e meno di moderatore di una discussione quindi se si parla di focus group perché probabilmente l'ho utilizzato lì il termine credo di sì quando se si parla di focus group moderatore facilitatore sono sinonimi se si parla invece di altre metodologie di ricerca più partecipative magari io non modero delle discussioni perché se lascio le persone auto-organizzarsi nelle proprie discussioni io non le modero però magari le facilito nel senso che se vedo che cala come dire per esempio che c'è un momento di silenzio che cala la discussione che c'è il caso di cambiare magari entro e facilito il processo quindi nel focus group si sovrappone però sono due azioni un po' diverse possono essere due azioni un po' diverse la moderazione fa parte proprio della discussione la facilitazione più dei processi ok allora se non ci sono altre domande non ne vedo in chat oh no ce n'è ce n'è ancora una si possono usare anche i WorldCave e la sociocrazia in ricerca qualitativa non li conosco non li conosco non so di quali strumenti si stia parlando qual era perché non vedo le domande posso riportartela in chat o se no chiedo anche a chi ha posto la domanda se vuole scrivere qualcosa in più ah ecco adesso le vedo perdonami scusami ah i WorldCafe allora sì allora la prima i WorldCafe è una metodologia quella del WorldCafe che noi utilizziamo moltissimo la sociocrazia non la conosco quindi non so a che cosa si riferisca e se perché proprio non la riconosco quindi non so se è il termine giusto però comunque io non la conosco se è la sociocrazia i WorldCafe tant'è che sono stata molto indecisa se alla fine presentarvi il WorldCafe o l'OpenSpace Technology assolutamente sì è una metodologia qualitativa che prevede anche la partecipazione di molte persone non tante quanto l'OpenSpace Technology è comunque una una metodologia che prevede dei gruppi di lavoro su determinati argomenti e però prevede che in ogni gruppo di lavoro ci sia sempre si chiama così nella metodologia un custode di un tavolo cioè che si occupa di un determinato argomento e le persone che transitano in tutti i tavoli quindi in un WorldCafe per dire che si snoda su tre tematiche tendenzialmente io che prendo parte partecipo nella prima mezz'ora nella prima ora al primo tavolo poi mi sposto al mio tavolo arriveranno altre persone io faccio una sintesi di quello che è emerso nel gruppo precedente e nel mio tavolo le persone nuove non devono ripetere partendo da zero devono aggiungere a quello che il custode ha restituito e intanto si dice così la metodologia dice che intanto chi è stato al mio tavolo è andato tra virgolette ad impollinare il tavolo su un altro contenuto dove si incontrerà il custode che farà una sintesi di quello che è emerso e io anche alla luce del lavoro creativo che ho fatto nel mio primo tavolo contribuirò sul secondo tavolo però diciamo che è un po' più è strutturato in modo tale che in teoria tutti partecipino a tutti i tavoli e che poi si restituisca una sintesi delle discussioni che sono emerse su ogni tavolo l'open space l'open space technology è meno strutturato io posso anche decidere come partecipante che mi interessa un unico argomento e restare lì tutto il tempo oppure posso decidere che non mi interessa dopo i primi cinque minuti e cerco un altro tavolo per esempio però comunque entrambe hanno l'elemento comune che come dire valgono i dati che si raccolgono in quel momento con le persone che partecipano in quel momento quindi sull'open space technology no sul work cafe ho risposto e sulla sociocrazia andrò a studiare non ha più scritto niente però sarà un approfondimento successivo magari ok allora direi che sono le sei e mezza se non ci sono altre domande possiamo chiudere ti ringrazio tanto Anna sia per la bella presentazione che hai fatta e per queste aver approfondito con tutte queste domande essere andati un po' più a fondo e aver parlato appunto ancora di di questi approfondimenti sul tema dei metodi qualitativi e grazie ancora vi troverete nelle mie slide un po' di riferimenti bibliografici e comunque se ci sono questioni interessanti che qualcuno o qualcuna voglia approfondire non esiti a scrivermi così condividiamo ulteriori fonti grazie della disponibilità gentilissima buon lavoro davvero buon lavoro e buona serata ciao ciao Anna ciao allora io concludo e vi riporto le ultime informazioni che sono riguardo al prossimo incontro che sarà il 17 novembre sempre al 17 sempre su zoom il titolo del prossimo incontro sono esperienze italiane di health equity audit e ricordo ancora che c'è ancora una settimana di tempo per partecipare all' esercitazione che è stata lanciata la volta scorsa e per partecipare dovete solo inviare l'abstract in cui riportate una vostra esperienza lavorativa o di ricerca nel campo di epidemiologia sociale e potete inviare quest'abstract alla mail della consulta che è consulta appunto specializzandic o c'è la gmail punto com e le istruzioni per per l'abstract maggiori informazioni sono riportate sia sul sito dell'AIE che sul sito della della SITI nella sezione dedicata appunto al ciclo di incontri di epidemiologia sociale sono state comunque inviate per mail a tutti i partecipanti o Grazie a tutti.